Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Questo accanto a me è il nuovo Dyson Pure 8 più cool Cryptomic, membro della nuova serie di purificatori, ventilatori e termoventilatori di casa Dyson. Se mi seguite da un po' vi ricorderete che qualche anno fa sono stata in Inghilterra agli headquarters di Dyson, dove mi spiegarono le loro tecnologie innovative. Anche in questo caso ho fatto da studente e ho appreso tante nuove informazioni che sono felice di potervi raccontare in questo video. Iniziando dalla particolarità di questo nuovo device che è la tecnologia Cryptomic che distrugge la formaldeide, un gas potenzialmente nocivo, distruggendolo in piccole quantità di acqua e anidride carbonica. In questo video mi accompagnerà nella mia giornata e vi farò vedere come è diventato un alleato del benessere nella mia quotidianità. Siete pronti? Iniziamo con il video! Buongiorno! Oggi colazione per gli amanti del cioccolato. Praticamente in questi giorni al mare ho veramente studiato una ricetta di un pancake al cioccolato. E ragazzi, sono uscita con quello che io ho chiamato il pancake delice. Eccolo! Che è spettacolo! Taste test, nonostante lo conosco benissimo perché sono settimane che lo provo e lo testo, perché prima di portarvi una ricetta cerco di dire, ok, questa secondo me è una versione che ne vale la pena. Quindi, alla vostra! Come avrete notato ci troviamo a Milano, siamo tornati qui per qualche giorno perché questo weekend andremo su montagna. Oh yes! Finalmente quest'anno la montagna d'estate, passeggiate nella natura, trekking, stare a contatto con la natura. Mi ricorda di quando ero bambina e vivevo in campagna e passavo tutta l'estate in campagna, in mezzo alla natura, a respirare aria pulita. Diciamo che questo è un po' il tema di questo video, il fatto di riuscire a respirare aria pulita e vivere in un ambiente salubre e sano tutto l'anno senza dover aspettare di dover correre al mare o in montagna, anche perché passiamo in casa circa il 90% del nostro tempo. Oggi sarebbe dovuta essere una giornata dedicata alla costruzione della vetrinetta e della libreria, ma un'asse si è rotta nel trasporto e quindi dovremo fare il reso. Ecco, ad esempio, sapevate che il legno pressato può rilasciare formaldeide o che le candele profumate, quando vengono accese, ad esempio questa, oppure i mobili nuovi, oppure lo smalto, che tra parentesi io dovrei rifarmi, possono rilasciare composti organici volati nell'aria. È partito da solo. Insieme a Dyson ho scoperto che questi oggetti possono continuare a rilasciare formaldeide nell'aria per lunghi periodi di tempo, dai 3 ai 15 anni. La formaldeide è in colore, ma è un gas potenzialmente nocivo con elevate proprietà reattive. Questo purificatore termoventilatore, Dyson Pure Hot Pure Cool Cryptomic, rileva automaticamente l'inquinamento indoor e si attiva per purificare tutta la stanza. Quindi basta tenerlo collegato in modalità auto, come qualsiasi altro dispositivo che abbiamo in casa, e sa lui quando attivarsi. Grazie a tre sensori, uno per le particelle ultrasottili, uno per i composti organici volatili e uno per l'umidità relativa alla temperatura, rileva la qualità dell'aria in tempo reale. È dotato di tre filtri, un filtro EPA che cattura il 99,95% di particelle inquinanti delle dimensioni di 0,1 micron, inclusi allergeni, batteri, polline e muffe. Un filtro in carbone attivo che rimuove odori, fumi domestici e gas, inclusi il diossido di azoto e benzene. E un nuovo filtro caratteristico della gamma Cryptomic, per intrappolare e distruggere la formaldeide, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2. Dovete sapere che Jimmy da un bel po' di tempo soffre di allergia e stiamo cercando di capire il motivo e sono proprio curiosa di scoprire se utilizzandolo con costanza riusciremo a ridurre questa sua allergia continua che si porta dietro da mesi. È migliorata da quando siamo venuti in questa nuova casa, in quanto siamo più alti ed è più arieggiata, ma voglio proprio vedere se il Dyson Pure Hot, più cool, Cryptomic è in grado di aiutarlo ulteriormente. E' giù! Io voglio il gelato biscotto. Non durerebbe molto se stessimo tutta l'estate qua. Ma sono tanti, eh? Dureranno solo per quello. Oggi pranzo super semplice, abbiamo scongelato il salmone che faccio in padella con le zucchine grigliate. Come avrete notato, in questa casa la cucina è un po' sacrificata, è un cucinotto. E quando si cucina la temperatura sale e diventa difficile. Per questo mettiamo il Dyson qua, proprio l'ingresso della cucina, e lo mette in modalità ventola che con questo deflettore che rimane fisso emette frontalmente un potente flusso di aria fresca e purificata. E allo stesso tempo tramite i filtri in carbone attivo assorbe e rimuove gli odori, i fumi domestici e il gas. Qui ho la griglia accesa, adesso ci butto sopra le zucchine. Ahimè non ho il timo perché il timo è morto. Nel frattempo, se io con la padella mi avvicino... Impazzito. Rileva subito. Subito. Non vi ho mai fatto vedere come cuocio il re in padella. Allora praticamente scaldo una padella, lo metto skin side down, quindi pelle in giù. Uno. E' un dos. Fuoco basso e metto il coperchio. In questo modo lo lascio cuocere piano piano dentro e gli permetto di rilasciare il suo grasso, che poi è il grasso nel quale si cuocerà e che mi aiuterà a fare la crosticina. Quindi adesso lo lascio così, fino a che vedo che è diventato così. Per me quando è così è cotto. Quindi adesso prendo e giro. Ok. E adesso così fuoco alto per fare la crosticina sulla carne praticamente. E come vi dicevo, la cosa positiva di tenere il Dyson qua, oltre che a raffrescare e a purificare, assorbe anche gli odori. E vediamo la crosticina. Voilà. Crosticina! Quanto è buono l'olore salomone! La 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 la. Quindi pranzo super veloce, super easy. Salmone, zucchine, gallette, insalata, caramelle. Cotto in questo modo fa la crosticina sopra che è super piacevole. E dentro rimane bello, morbido e succoso. Cotto perfetto. Eto ragazzi, la salomone è mia. Oggi pomeriggio stiamo passando a fare la valigia per la montagna. Questi giorni saranno super active. Abbiamo in programma trekking, scalate, paragliding. Speriamo nel bel tempo. E oggi, anche in previsione di questo weekend, voglio fare una sessione di stretching yoga flow. Insomma, voglio un po' rilassare il mio corpo prima di questi giorni belli intensi. Quindi adesso mi metto qua. Abbiamo questa piccola location per quando faccio i miei esercizi in casa. Ho messo il Dyson che, nel mentre che purifica l'aria, emette un getto d'aria fresca d'estate, ma anche calda per quando farò i miei allenamenti in casa d'inverno. Nella modalità diffusa, il getto d'aria non viene messo dall'apertura frontale, ma viene rivolto verso la parte posteriore. Quindi ora, let's flow! E basta, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Noi siamo in partenza per la montagna, quindi il prossimo video sarà della montagna. Stay tuned! Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!